Una professione che sta scomparendo perché è sempre più difficile riuscire a lavorare manualmente e avere un ricavato. Non so, per dire fabbro, falegname. La capacità di alcune persone di proporre un po' la propria arte. Non so bene se considerare artigianato anche ciò che riguarda la tecnologia. Io considero più artigianato il lavoro di esempio in manuale o appunto come ho detto prima fatto in casa, tipo adesso c'è più tecnologia quindi questo non lo considero come artigianato. La nostra azienda produce apparecchiature radiologiche. È un'attività che ha una lunga storia perché è iniziata nel 1935. L'azienda produceva apparecchiature radiologiche per il settore umano. Poi a distanza di 20 o 30 anni con la nascita della TAC e della risonanza magnetica si è convertita ed è passata alla produzione di apparecchiature radiologiche per il settore della veterinaria. Innovare vuol dire creare. Sempre i nuovi prodotti nascono da idee ed idee suggerite da intuizioni. Naturalmente una volta che si è pensato ad un prodotto che è nato dall'intuizione ebbene poi andare a riscontrare sul mercato si è effettivamente a gambe per camminare. Ci si deve ispirare a dei fondamenti. Il primo fondamento è quello di cercare di semplificare la macchina, renderla estremamente facile all'utilizzo. Il secondo criterio è quello di renderla sicura. Nel settore medico, anche in quello veterinario, la sicurezza è assolutamente fondamentale. Per ultimo, anche la questione prezzo è di estrema rilevanza. Quello di fare una macchina estremamente economica è di sicura grande utilità e di impatto. Specialmente all'inizio quando si deve lanciare il prodotto. I mercati esteri hanno delle grosse potenzialità, specialmente alcuni paesi nei quali il settore veterinario è proprio all'inizio. Quindi siamo andati proprio a rivolgerci ai paesi anche in via di sviluppo, dove il mercato veterinario ancora non conosceva la possibilità, ad esempio, di avere una macchina radiologica dedicata agli animali. Quindi inizialmente utilizzavano macchine anche usate, che arrivavano dagli ospedali. Invece noi abbiamo un prodotto dedicato esclusivamente a questo settore, quindi con potenzialità, caratteristiche che lo rendono assolutamente performante, con bassi consumi e con soprattutto minori costi.